buonasera torniamo a fare un piccolo scartalibro ma questa cosa ce l'ho da un po di tempo veramente è molto grande questo pure ha fatto un cosmo una specie di... sembra una cosa della pizza un cartone di una pizza un'azante ok una forza disumana ho compreso questo è qualcosa della pizza ma nel libro è una scatola della pizza allora questo è il libraccio ragazzi questo è il libraccio che io ho letto però c'è un'altra versione ho detto fatemi vedere fatemi vedere fatemi vedere si capisce? ecco qua la mia battaglia allora eh sì è proprio quella Mein Kampf la mia battaglia Adolf Hitler Gerardo Casini editore perché ho preso questo libro? ovviamente non perché so un itleriano che è quanto di più distante no? perché ma allora la cosa è questa qualche settimana fa tutto il paese è stato avvolto nella nella disputa elettorale sul taglio dei parlamentari no? e molti di quelli che hanno sostenuto la necessità di tagliare il numero dei rappresentanti in totale 345 parlamentari tra deputati e senatori dico molte di queste persone hanno sostenuto la propria posizione eh con discorsi molto duri molto offensivi del ruolo del Parlamento e soprattutto dei parlamentari quello che comunemente viene definito antiparlamentarismo è una categoria del pensiero politico e cioè chi qualche modo eh più o meno in maniera forte critica l'esistenza stessa del Parlamento non solo l'esistenza ma la capacità di rappresentanza ecco forse questo è un concetto un po' più 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 preciso quanto quanto il Parlamento sia in grado di rappresentare realmente le persone che eleggono il corpo elettorale gli elettori ad esempio moltissime persone ma stiamo parlando di milioni di persone il corpo elettorale italiano è di se non vale errato di circa 45 milioni di persone una grande maggioranza una grande una grande una grande una grande fetta di queste persone non vota più non vota più non vota più e non per sbagliate ragioni sfiducia diciamo riassumibile sfiducia nel sistema come dire qualsiasi cosa io dica non conta alla fine fanno tutti un po' il sistema politico va sempre nella stessa direzione è tirato da fila diverse da me anzi il mio recarmi alle urne sostanzialmente legittima questo sistema questa è una critica è una critica essa stessa legittima dice vabbè io non non sto al gioco non voglio stare più al gioco chiamiamolo gioco gioco elettorale gioco parlamentare per cui il parlamentarismo puro quello che è sancito dalla nostra costituzione che appunto disegna un parlamentarismo forte pone il parlamento al centro della dello schema politico tant'è che è l'unico organo di valenza nazionale che noi andiamo a eleggere ad esempio non eleggiamo il presidente della repubblica viene eletto dai membri del parlamento e altre figure ma sostanzialmente dal parlamento quindi è emanazione della maggioranza parlamentare così come il governo è emanazione della maggioranza parlamentare attenzione perché maggioranza parlamentare non significa necessariamente chi ha vinto le elezioni questo è un po' un altro piccolo nodo non è la maggioranza parlamentare non sempre è rappresentata da chi vince le elezioni anche perché non sempre c'è un vincitore preciso anzi diciamo che spesso non c'è il vincitore questo sistemino qui manda in tilt molte persone che dicono no io non ho capito perché se io ho vinto le elezioni non governo e magari va al governo chi l'ha perse non capendo che esattamente non è chiaro spesso chi abbia vinto le elezioni questo è quindi bisogna fare degli accordi all'interno del parlamento questo è il parlamentarismo questa roba qui non è un presidenzialismo dove noi andiamo a eleggere il presidente o direttamente o indirettamente noi non eleggiamo il presidente della repubblica il presidente della repubblica non ha dei poteri particolari particolarmente forti nel nostro paese è una figura con delle determinate caratteristiche per carità però non è paragonabile non fa come dire non dirige la politica nazionale spetta al governo governo che è emanazione della maggioranza parlamentare che ripeto non è il singolo partito che ha vinto le elezioni se un partito vincesse col 51% sarebbe un governo monocolore molto raro molto raro abbiamo tentato negli anni di fare in Italia si è tentato di fare questo bipolarismo alla fine bipolarismo per cui o vince uno o vinceva l'altro poi dai 5 anni a uno e 5 anni all'altro per fare questo bisogna dare dei premi di maggioranza perché nessun partito qui in Italia prende tantissimi voti eventualmente c'è una coalizione che prende parecchi voti ma stiamo sempre nel gioco del parlamentarismo questo per dire che molte persone non condividono questo sistema non condividono questo sistema ad esempio non condividono quando un parlamentare esce dal proprio gruppo esce dal proprio gruppo con cui è stato eletto e va magari in un altro gruppo o finisce poi nel famoso gruppo misto e questa cosa che rientra nelle prerogative del parlamentare ed è anzi uno dei pilasti del parlamentarismo della democrazia parlamentare e cioè l'assenza l'assenza con la A assenza del vincolo di mandato molte persone non lo vorrebbero togliere ma sarebbe molto grave perché il parlamentare non rappresenta semplicemente chi l'ha votato rappresenta anche e soprattutto chi l'ha votato portando le proprie istanze i valori i principi gli interessi gli interessi è una cosa fondamentale ma una volta eletto accede ad una fase ad una veste superiore che è rappresentante della nazione quindi rappresenta tutti e nei fatti che accadranno successivamente alla sua elezione lui è libero di prendere posizione in qualche modo potremmo dire che l'elettore non vota la persona come appunto un un semplice passacarte ma in qualche modo vota la testa di questa persona fiduciosi che il cervello di questa persona nei momenti opportuni prenderà decisioni buone questo è almeno quello che in qualche modo ho capito io in questo tempo può essere insomma quindi appunto molti persone sono anche contro questa libertà del parlamentare dell'eletto e vorrebbero molto più controllato all'interno del proprio percorso come dire tu devi fare solo questo ma ripeto anche questa figura per me è sciocca perché gli interessi sono moltissimi e non è detto che tutti quelli che hanno eletto quella persona o quel partito al momento x o y successivo siano tutti esattamente d'accordo su una posizione piuttosto che un'altra e allora quel singolo deputato a quale parte dovrebbe teoricamente essere fedele a quale lui è fedele alla propria coscienza individuale intellettuale e politica questo è il disegno da questo nasce poi e si sviluppa parlamentarismo perché questa introduzione appunto introduzione tutto questo qua perché proprio in quel periodo in tutto questa dispute elettorale sulla riduzione dei parlamentari molte persone hanno insultato il sistema parlamentare il parlamentarismo e quindi per colpirlo come dire per colpirlo hanno sostenuto la posizione del taglio di 345 parlamentari se potrebbe scudare l'infinito questa roba rimane il fatto che membro di alcune letture fatte nel tempo ha detto ma guarda caso c'è un tizio che ha scritto delle pagine perfette per la critica del sistema parlamentare questa persona si chiamava Adolf Hitler e questa roba l'aveva scritta in un libro chiamato Mein Kampf tradotto in italiano diciamo la mia battaglia andando a fare delle ricerchine avevo trovato che c'erano forse delle edizioni con delle traduzioni diverse da altri io non ce l'ho il Mein Kampf in tedesco ne ho una copia in italiano però non si è scritto niente quindi ho trovato questo libro e ho detto vediamo se dentro c'è cosa c'è di più informativo rispetto a quello che so tutto qua è una questione di è un libro come dire fa parte della storia vediamo vediamo che dico allora vediamo l'indice allora la mia battaglia introduzione orientamenti bibliografici cronologia e poi parte il Mein Kampf allora vediamo questa è l'introduzione vediamo chi l'ha scritta chi l'ha scritta l'introduzione non lo so non c'è scritto qui c'è un'altra parte di introduzione il folk il popolo sangue spirito e fratellanza razziale il concetto base per capire il Mein Kampf il nazismo e le filosofie razziali è una lunga introduzione divisa in paragrafi addirittura a cui parla di teosofia della Blavatsky la teosofia nasce il patinanzio al socialista il culto dell'SS gli arconti di Himmler c'è stato un tempo con il letto vecchia roba che sono rimancato il cosiddetto misticismo dell'SS no vabbè allora nella casa nel allora volume primo nella casa paterna andiamo un attimo ecco ecco ho capito adesso vi spiego un attimo ho capito ma questo Pierluigi Tombetti ah c'è scritto sopra scusate non ho mica capito allora qua si inizia a capire a un certo punto del libro c'è scritto Pierluigi Tombetti mentre prima non c'è scritto ah ogni tanto appare altre volte va bene allora piccola premessa il Mein Kampf è diviso in due cioè il Mein Kampf originale è diviso in due parti la prima parte Hitler parla della tua diciamo così crescita culturale fisica dalla casa diciamo Cosinatia lo sviluppo dei suoi anni e via dicendo la seconda parte parte diciamo così dalla nascita appunto del diciamo l'entrata nel vivo della questione nazionalsocialista io cercavo anche la prima parte che sta online c'è una piccola volendo sta online però è tradotta in un modo che quindi sto cercando di capire se qui c'è solo la seconda parte o anche la prima allora questa è lo stato questa è la seconda parte del make up su 15 capitoli allora la concezione del mondo dei partiti questa è secondo me ecco qua la prima parte questo è il primo capitolo del della seconda parte del main camp che è quella politica proprio del programma politico ed è qui che Hitler fa sfoggio di antiparlamentarismo sì c'è tutta questa parte dove praticamente Hitler parla del del verme di parlamento cioè quel soggetto che teoricamente viverebbe dentro il parlamento e si sviluppa ma insomma ne va a dilungarmi troppo su sta questione qui comunque invece qui c'è la cronologia lentamente bibliofari a tutta l'introduzione di Pierluigi Tombetti che non conosco e praticamente nell'introduzione ecco qua l'introduzione commenta sostanzialmente il Minecraft capitolo per capitolo quindi nell'introduzione che è appunto molto lunga c'è questo quando scrivi volume primo nella casa paterna sarebbe il commento dei capitoli della prima parte del Minecraft poi c'è il commento alla seconda parte vedete il volume primo commento volume secondo commento poi però c'è appunto il Minecraft scritto da Hitler però c'è solo la seconda parte non so se è chiaro sono 15 capitoli esattamente capitolo vendicesimo questo qua e qui dice una sola preoccupazione spinge a costruire programmi nuovi e a modificare quelli che già esistono la preoccupazione dell'esito delle prossime elezioni non appena nella testa di questi giullari del parlamentarismo giullari del parlamentarismo balena il sospetto che l'amato popolo voglia ribellarsi e sgusciare dalle stange del vecchio carro del partito essi danno una mano di vernice al timone allora vengono gli astronomi e gli astrologi del partito i cosiddetti esperti e competenti per lo più vecchi parlamentari che ricchi di esperienze politiche rammentano così analoghi casi analoghi in cui la massa finì col perdere la pazienza e che sentono avvicinarsi di nuovo a una minaccia dello stesso genere e costoro ricorrono alle vecchie ricette formano una commissione spiano gli umori del buon popolo scrutano gli articoli dei giornali e fiudano gli umori delle masse per conoscere che cosa queste vogliano e sperino e di che cosa abbiano orrore ogni gruppo parlamentare ogni gruppo professionale e persino ogni ceto di impiegati viene esattamente studiato e ne sono indagati i più segreti desideri di regola in questi casi diventano maturi per l'indagine anche i soliti paroloni della pericolosa opposizione non dirato con grande meraviglia di coloro che per primi inventarono le diffusero quei paroloni entrano a far parte del tesoro scientifico dei vecchi partiti come se ciò fosse la cosa più naturale nel mondo ecco qua ecco qua ogni mattina il signor rappresentante del popolo si rega alla sede del parlamento se non vi entra almeno vi porta fino all'anticamera dove è esposto l'elenco dei presenti ivi pieno di zelo per il servizio alla nazione iscrive il suo nome per questi continui debilitanti sforzi riceve un compenso un ben guadagnato indennizzo dopo quattro anni e le settimane critiche in cui si fa sempre più vicino lo scioglimento della camera una spinta irresistibile invade questi signori come la larva non può far altro che trasformarsi in maggiolino così questi bruchi parlamentari ecco i vermi di parlamento questo lo traduce in bruchi parlamentari lasciano una grande serra comune ed alati svolazzano fuori verso il caro popolo di nuovo parlano agli elettori raccontano dell'enorme lavoro compiuto e della perfida ostinazione degli altri ma la massa ignorante dal volta invece di applaudire li copre di parole grossolane getta loro in faccia grida ad odio insomma se dovessi leggerlo sarebbe troppo lungo siamo allungati tremendamente non so nemmeno se entra dentro il video insomma Adolf Hitler era un grande antiparlamentarista lui aveva una soluzione e cioè era lui l'unico rappresentante dell'intera Germania perché il problema politico da secoli è sempre lo stesso chi decide visto che non siamo tutti d'accordo tutto qua sembra facile cioè il problema è sempre questo chi governa è legittimato da cosa ok nei secoli abbiamo raggiunto il concetto di sovranità popolare cioè la sovranità e cioè questa energia chiamiamola così che legittima chi ne viene investito a prendere decisioni legittime appartiene questa sovranità al popolo che con le elezioni la infonde ai rappresentanti chi è contrario a questa forma qui devono dovrebbero spiegarci in realtà cosa mettono in alternativa ripeto Hitler ha avuto un'alternativa e cioè lui era il rappresentante era la stessa Germania un folk un popolo un Reich un Führer semplicemente senza elezioni senza democrazia o comunque una democrazia nel senso di un rapporto diretto tra chi comanda e cioè il partito o il cosiddetto dittatore e la massa popolare naturalmente questo sistema si confa di grande repressione durissima repressione delle opposizioni che evidentemente esistono quindi attenzione quando si parla di antiparlamentarismo io invito sempre a fare molta 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 attenzione che 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 Grazie.